Miei seguaci, questa non sarà una guerra di eroi. Le nazioni si massacreranno a vicenda, mentre noi ci arricchiremo. Ci sarà da divertirsi. Non potete tenermi rinchiuso mentre il mondo brucia. Figliolo. In verità è un mondo governato da corruzione e avidità. Dobbiamo intervenire. Certamente. Noi siamo la prima agenzia di intelligence indipendente. Raffinati ma brutali. Civilizzati ma spietati. Benvenuto nel club. Notevole. È ora di gettare benzina... ...sol fuoco... ...della rivoluzione. Sì, mio pastore. Benvenuto, inglese. Rasputin, la sua reputazione la precede. Risolviamola da gentiluomini. Dopotutto... ...i modi... ...definiscono... ...l'uomo. Perché voi uomini siete dei gran pasticcioni? ... Grazie a tutti.